Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanini A tratti come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e i vecchi coi rosari E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e i vecchi coi rosari Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne Poi guardavamo con le facce a sentire la grazia innaturale di Nizinski E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei ballenti russi L'inverno con la mia generazione, le donne curve sui telai vicine alle finestre Un giorno sulla prospettiva Nizki, per caso vi incontrai Igor Stravinsky E gli orinali messi sotto i letti per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione E gli orinali messi sotto i letti per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione E studiavamo chiusi in una stanza La luce fioca di candele, lampade a petrolio E quando si trattava di parlare Aspettavamo sempre con piacere E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire